Lo sport ti insegna la disciplina, ti insegna lo stare con i compagni, insomma insegna a diventare degli uomini. Insegna tante cose nella vita, anche dentro il campo e fuori, come ti devi comportare di adesso in poi. Allora i bambini piccolini sono come una spugna e questo sport è importante per la crescita, sia nel campo che nella vita. La solidarietà, la partecipazione di gruppo, non solo in pista ma anche fuori, si creano poi dei legami nello spogliatoio, si esce insieme al di fuori delle partite, i bambini si incontrano, stanno insieme, quindi è sicuramente oltre ad aggregazione comporta appunto delle amicizie che poi vanno avanti anche nel tempo. L'alza a schiaccia è il tap in, è il gesto tecnico che tutti i ragazzi, anche quando ancora non sanno fattinare, vorrebbero fare. Penso che sia il massimo per questo sport, però ecco tutti gli altri tipi di tiri sono altrettanto importanti, basta saper cogliere l'attimo.